buonasera Q è in ritardo 007 come al solito procediamo questo è un trasmettitore di nuova generazione si chiama sesamo non lo tocchi per favore le mostro io premendo questo tasto vede la luce si apre il cancello del mi6 il cancello qui sotto si ha una portata di 10 metri per farle capire è in grado di aprire il cancello anche da questo terrazzo e lo può alloggiare tranquillamente nel taschino ma qualche altra funzione ora presti attenzione per favore diversivo in caso di accerchiamento per innescarlo eventualmente può usare anche dei fiammiferi non vorrei sembrarle in opportuno questa sembra una penna normale non le pare si direi invece ora scrive rosso ora verde ora scrive blu io ora violetto infine il suo nuovo orologio ah bene ma ma è rotto segnalo ora esatto due volte al giorno le pare poco lo indossi su ma ma io ah dimenticavo il suo nuovo mezzo di trasporto ma è un biglietto del tram si e ci faccio una cortesia 007 lo timbri solo se vede il controllore e e e e e e Grazie a tutti.